Soverato e Palmi, entrambe impegnate in casa, sfrutteranno il fattore palazzetto. Per le ragazze di Coccesaia il momento è tre migliori stagionali, inutile negarlo, ma è certamente il più delicato. Dopo il colpaccio in casa della vicecapolista Pesaro e a meno tre giornate dalla fine, bisogna guardare avanti e concentrarsi sulle avversarie rimaste. Nel prossimo turno le Ioniche ospiteranno Trento, un match cruciale per il Soverato che proverà a tenersi stretta la quarta postazione. Lo stesso Trento, che a meno uno dalle calabresi, proprio un gradino più giù, arriverà in Calabria guerrito cercando di bissare il 3-1 dell'andata. Ma per Soverato sarà un banco di prova con la penultima gara della regular season in programma al Palascoppa. Nell'ultima giornata Soverato farà visita proprio all'altra calabrese Palmi per il ritorno del derby storico di Serie A2. Palmi che quindi su tre gare ancora da disputare almeno in due potrà contare sul proprio pubblico. Le regine, prima di pensare al derby però, dovranno mettere in cassaforte il sesto posto e quindi l'accesso ai play-off già nella prossima giornata contro San Giovanni in Marignano, decima della classe e che all'andata mandò a casa le calabresi con una pesante sconfitta. In ogni caso sarà un finale di campionato infuocato. Maria Chiara sigillò per la CNews24.